Oroscopo del giorno. Sabato, 4 agosto, 2018. Ariete. Ariete. Amore, è un periodo nel quale non vi conviene giocare con lamore, e se state vivendo due storie parallele ad esso è il caso di fare una scelta decisa. Sarà una giornata nel complesso valida anche per i single, che grazie allinflusso della luna avranno maggiore energia. Lavoro, momento di scelte, oggi dovrete cercare di capire se proseguire o meno per una certa strada. Toro. Amore, se siete in attesa di novità, ci saranno ottime occasioni per guardare al futuro sentimentale con ottimismo. Lintesa è al top e non siete felici. Con Giove opposto i single potranno restare a guardare, ma le stelle fanno locchiolino e il vostro sex appeal avanza. Lavoro, è un fine settimana in calo, soprattutto se avete avuto contrasti con soci o colleghi. Un contenzioso è ancora aperto. Gemelli. Amore, giornata importante per quanto riguarda i sentimenti. Avete tanta voglia di trascorrere un weekend tranquillo con la vostra metà e questa sembra proprio la giornata giusta. Coloro che sono singole hanno dovuto affrontare una dura prova saranno più sereni. Lavoro, in questo momento avete la necessità di fare quadrare i conti e qualcuno potrebbe cercare di avere un contratto di lavoro migliore. Cancro. Amore, le relazioni stanno attraversando una fase di crisi, il rischio è quello di riversare in amore le vostre perplessità e il nervosismo. Le stelle consigliano di stare attenti. Intriganti e maliziosi, i single non perderanno tempo e lanceranno sguardi eloquenti. Lavoro, oggi non mancheranno le preoccupazioni di carattere lavorativo e questi nodi bi rendono molto nervosi. Leone. Amore, a livello affettivo il clima non sarà del tutto disteso, se siete in coppia potreste farvi prendere da gelosie immotivate e insicurezze esagerate che guasteranno anche lumore del partner. I single avranno aspettative elevate che non troveranno un riscontro nella realtà. Lavoro, siete preoccupati ed insoddisfatti, le vostre sicurezze vacillano, rimandate le decisioni importanti a momenti migliori. Vergine. Amore, venere è sempre in buon aspetto nel vostro segno e questo potrebbe favorire gli incontri speciali. Con questo quadro astrale, spetterà a voi fare la giusta selezione e mirare allobiettivo. Se siete single avete la tendenza ad unirvi a persone complicate, ma adesso potete scegliere. Lavoro, da po' di tempo siete alla ricerca di conferme dallambiente circostante e non mancheranno le occasioni per crescere. Bilancia. Amore, non mancheranno le preoccupazioni ma adesso state andando incontro ad una fase decisamente più stabile e in positivo. Chi ha una relazione solida potrebbe valutare progetti importanti. Questo sabato porterà emozioni ed una maggiore energia nella vita dei single. Lavoro, nonostante Saturno in opposizione le stelle sono decisamente vincenti per voi, soprattutto se volete vincere una sfida. Scorpione. Amore, occorre cercare nuove soluzioni per distendere la tensione tra le coppie. Chi è sinceramente innamorato avrà ben poco di cui lamentarsi. Se siete single e state vivendo una fase conflittuale dovrete fare in modo di conoscere le persone giuste. Lavoro, dovrete evitare di mettervi contro qualcuno o attivare polemiche poiché ogni parola potrebbe ritorcersi contro di voi. Sagittario. Amore, molti di voi sono alla ricerca di sicurezze sentimentali, alcuni dovranno invece cercare di superare una certa lontananza dal partner. Ricambiate le attenzioni se avete avuto un partner premuroso. Cuori solitari in attesa di novità, dovrete far parlare il cuore. Capricorno. Lavoro, una svolta lavorativa potrà portare cambiamenti di vita radicali, magari qualcosa è già in atto. Capricorno. Amore, giornata carica di agitazione, se dovete chiarire qualcosa, meglio parlare adesso. Avete davanti un fine settimana un po' ingarbugliato, lamore lascia a desiderare. I single saranno lieti di incontrare persone nuove per vivere emozionanti avventure. Lavoro, adesso dovete impegnarvi per migliorare la vostra vita ma le stelle vi consigliano di ottimizzare le risorse per limitare le spese. Acquario. Amore, oggi luna e marte sono nel vostro segno. In questo momento sareste pronti anche a rompere un rapporto in cui credevate fino a qualche tempo fa. Se siete single si preannuncia nostelle favorevoli, magari potrete fare le giuste scelte. Lavoro, siate prudenti e calmi, altrimenti rischiate di fare scelte che possono mettervi in difficoltà a livello economico. Pesci. Amore, se di recente avete avuto forti perplessità in amore, adesso è meglio lasciar passare un po' di tempo per poter riparare. Ancora non è il momento giusto per rapportarsi in modo chiaro a livello sentimentale, i singoli invece voleranno spediti da un flirt allaltro. Lavoro, dal punto di vista lavorativo molti potranno puntare su buone proposte, sempre da valutare. Gettyou. Lavoro. . .